la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon lunedì a tutti, ben ritrovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News e andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, prima parte ampiamente dedicata alle pagine del quotidiano il mattino il titolo di apertura, si parla del calcio, della vittoria del Napoli ieri contro il Chievo e vediamo il titolo utilizzato dal quotidiano il mattino che è poi anche il titolo di apertura il Napoli non teme nessuno, Iguain stende il Chievo e gli azzurri volano al secondo posto a Verona la quarta vittoria consecutiva la squadra di Sarri domina e colpisce anche due pali e nel controcampo svolta Pipita il capofamiglia che si fa in due Ancora sport, si parla di motociclismo, Rossi fa cadere Marquez e viene punito e poi la sequenza dell'incidente, vediamo la reazione di Valentino e la malafede dei giudici la parola chiave è sfinimento tradotta dalla Treccani con stato di profonda estenuazione condizioni ambientali, situazioni e circostanze che mettono a dura prova la resistenza fisica e nervosa di un individuo, Valentino Rossi ha adoperato il termine nel tentativo di spiegare il momento sbandato che l'ha portato a spingere il recidivo Marquez fuori pista Cambiamo argomento, ci spostiamo di fondo, ancora Roma in primo piano e la politica, soprattutto la politica di Roma, Mirino in trincea pronto a resistere il PD insiste, non si torna indietro la crisi di Roma allo scontro finale e ancora l'analisi, il pagliaccio assediato dai dilettanti e poi sempre per l'analisi il tesoretto elettorale dei moderati Andiamo a centro pagina Per la politica estera, la Polonia gela l'Unione Europea, vincono i nazionalisti successo per la destra anti-europea, secondo gli exit poll hanno la maggioranza per governare da soli e poi focus bonus lavoro al sud e boom di contratti Andiamo di taglio basso, vediamo le notizie con cui chiude questa prima pagina del mattino nazionale Non paga lo spinello, ucciso a 18 anni, delitto sciocca a Catanzaro, accoltellato dall'amico per un debito di 10 euro E ancora le idee se la Chiesa surclassa la democrazia, il coraggio del sinodo e la pigrizia immobile dei parlamenti Per quanto riguarda invece la capitale della cultura, Ercolano, un simbolo per tutta l'umanità Questa è la prima pagina del mattino nazionale, restiamo sulle pagine del nazionale Parliamo ora invece della legge di stabilità, notizia di primo piano per il mattino Si va verso il voto, vediamo quali sono i principali punti Intanto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene proprio su questa legge E vediamo, la manovra legge di stabilità, arriva il via libera di Mattarella, ora il testo passa in Senato Tensioni nel PD, tasi e contante a 3.000 euro sono nel mirino, la minoranza DEM annuncia battaglia Fiducia, il Premier pronto a blindare il testo in caso di assalto alla diligenza Vediamo una parte dell'articolo, a 10 giorni dalla sua formale approvazione in Consiglio dei Ministri La legge di stabilità 2016 è arrivata ieri in Senato, a renderlo noto E il capogruppo di Forza Italia Paolo Romani, sottolineando che il testo che circolava in precedenza Era privo delle parti essenziali di una manovra, cioè le cifre Grande è la confusione, è stato il suo commento che regna fra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia Continuiamo su questa pagina, andiamo di taglio basso Dirigenti senza concorso, duello, governo, agenzie delle entrate, il tesoro, subito il nuovo bando Malente guidato dalla Orlandi, attente il Consiglio di Stato A marzo scorso la consulta ha fatto decadere in un solo colpo 800 manager su 1200 promossi senza esami Lasciamo anche questa pagina, andiamo ora invece sul mattino di Salerno Vediamo quali sono i principali temi che interessano Salerno e la provincia Dalle pagine, partiamo dalla prima pagina Giustizia, dossier per Orlando, il Ministro in visita al Tribunale di Vallo della Lucania L'Assemblea, l'ANM, scusate, basta ridimensionamenti, carenza di personale, uffici fatiscenti Incontro con i vertici dell'Associazione Noi assediati dalla criminalità Torneremo su questo incontro del Ministro Orlando che arriverà oggi a Vallo della Lucania Nella pagina successiva, ora andiamo avanti con la lettera Moretti ai fedeli alla Porta Santa Il nostro giubileo E poi la polemica a Salerno, traffico in tilt per la Strasalerno, pochi avvisi, prigionieri in casa Vediamo, doveva essere una mattinata di sport dedicata a professionisti e famiglie Si è trasformata nella mezza maratona delle polemiche Le strade chiuse e sporche hanno attirato le ire dei cittadini Il traffico letteralmente paralizzato ha fatto impazzire gli automobilisti E rallentato anche la circolazione dei pochi bus che sono in servizio di domenica A fare il resto ha pensato l'opposizione che ha picchiato duro sull'amministrazione comunale Rea di non aver organizzato adeguatamente la logistica della manifestazione Determinando quindi molti disagi E andiamo a centropagina Un cantiere sul fiume, lite cittadini, mingardo, avvia i lavori, anti-esondazione Gli ambientalisti, scempio, i residenti Senza interventi siamo noi a rischiare la vita Ancora la polemica, Fontana sfregiata, tutta colpa degli stranieri Mentre di fondo la politica si va a scafati PD contro Aliberti deve dimettersi La fondo, decadenza, caso squallido e ancora prova di forza in piazza Accuse al sindaco Di taglio basso i punti di vista Quei frammenti di vita spezzati dalla guerra Questa è la prima pagina Andiamo nelle pagine interne Parliamo proprio della visita del ministro della giustizia Orlando al tribunale di Vallo della Lucania Vediamo il titolo Arriva Orlando I dossier dei magistrati Stamattina la visita del guardia sigilli al tribunale cilentano Per fare il punto delle emergenze Delle difficoltà degli uffici Trasferta a Vallo della Lucania Per l'Associazione Nazionale dei Magistrati Contro la criminalità economica Occorrono avamposti di legalità Vediamo riscrivere le circoscrizioni giudiziarie Favorendo il rientro di Sala Consilina Nel distretto di Salerno Sarà questa una delle problematiche Che l'Associazione Nazionale Magistrati Porterà questa mattina All'attenzione del ministro della giustizia Andrea Orlando In visita a Vallo della Lucania Un tribunale quello salese Le cui competenze sono direttamente collegate Al destino degli uffici giudiziari di Lago Negro A quello del distretto della Corte d'Appello di Potenza Che stando alle ultime indiscrezioni Potrebbe essere abolito per diventare distretto interregionale Forse insieme alla Calabria Almeno queste sono le prime ipotesi e indiscrezioni Ma all'attenzione del guardia sigili Il presidente dell'ANM Massimo Palumbo Il segretario Piero Indignimeo Porteranno un vero e proprio dossier Che riguarda in particolare anche le problematiche Degli altri due tribunali periferici del distretto Quello di Vallo della Lucania e di Nocera Inferiore Riforma giudiziaria Atto secondo Il sindacato Rivolgiamo Sala Consilina nel distretto E andiamo avanti La fede Giubileo L'appello dell'Arcivescovo Tutti alla Porta Santa Lettera di Monsignor Moretti In visita dell'evento del 13 dicembre Lasciamo anche questa pagina Andiamo avanti Andiamo ora sulle pagine sportive Quindi apriamo l'ampio spazio dedicato allo sport Con le gare di campionato I vari campionati del fine settimana Partiamo dalla Serie A La vittoria del Napoli E anche l'apertura per le pagine sportive del mattino Vediamo Napoli vola in Champions Implacabile La vittoria di ieri sera Porta il Napoli a pari merito Con diverse altre squadre Al secondo posto Quindi entra di diritto Nella parte Dedicata alla Champions Questo è il titolo di apertura Ma lo sport Le pagine sportive Parleranno anche di altro E tra questo parleranno sicuramente anche della Salernitana La difesa è a pezzi Sfida Empera Eurdi Il brasiliano in campo Con il naso rotto Avrà la mascherina Quindi comunque scenderà in campo Nonostante le difficoltà E poi il trotto Di taglio basso Freccia d'Europa Triunfo di Orsia Sulla pista di Agnano Applausi alla Cavalla E al driver Di Nardo Anche da Valeria Marini E dall'ex presidente Azzurro Ferlaino Questa è la prima pagina Dello sport Andiamo ora Un po' ad analizzare Nel dettaglio I vari campionati Partiamo con la Serie A Vediamo la pagina Dedicata proprio alla Serie A Parla della vittoria Del Napoli Chievo KO Iguain fa sognare il Napoli Al Bentegoti Il gioco duro Dei Veronesi Ma i partenopei Non si fanno Intimorire Raggiungono il secondo posto In classifica Due pali Un gol del Pipita In una partita Gestita con Il possesso palla Azzurri umili Superano bene Pochi momenti Delicati E poi Bunkera Ancora una volta Reina Chiude la gara Senza reti Vediamo Continuiamo La chiave Le incursioni di Allan Diventano l'arma vincente Contro la barriera Eretta da Maran Con tre centrocampisti Stretti a protezione Della difesa Gli esterni Cajon e Insigne Si accentrano più del solito Per giocare più vicini A Iguain Questa Un po' L'analisi Della gara di ieri Che ha visto la vittoria Del Napoli Contro il Chievo Portandolo Portando la squadra Di Sarri Al secondo posto In classifica Ora parliamo Invece della serie B E parliamo Della Salernitana Vediamo Emergenza In difesa Per la Salernitana Vediamo infatti Il titolo In difesa con i superstiti Aggrappati a Empereur Per la Salernitana I nodi Il giovane difensore Si è rotto il naso Mascherina Protezione Del volto E la vigilia Allenamento a Roma Poi di scena A Lanciano Il mister Non cambia Il tridente E lasciamo Anche questa Pagina Dedicata Alla Salernitana Ora andiamo Invece Nei campionati Dilettantistici Per quanto riguarda Lo sport E vediamo I risultati Di eccellenza Nocera Valdiano 0-1 A 0 Perde quindi Il Valdiano Ebolitana Massalubrense 1-0 Mariglianese Faiano 0-1 Montesarchio Sant'Antonio Abate 3-1 Palmese Scafatese 1-1 San Vito Positano Castello San Giorgio 1-0 Sorrento Calcio San Tommaso 2-3 US Scafatese FC Sorrento 1-3 La classifica Del girone B Di eccellenza Sorrento Nocera 19 punti Guidano Il gruppo Segue Positano Con 17 punti Montesarchio 15 US Scafatese Ed Ebolitana 14 Palmese 12 Faiano 11 Scafatese 22 8 Mariglianese San Tommaso 7 Sant'Antonio Abate 6 Castel San Giorgio Valdeano 3 punti Chiude Massa Lubrense Sorrento Con 1 Punto Questi I risultati Di eccellenza Campana Girone B Vediamo ora Lasciamole il mattino Andiamo ora sulla prima pagina Del quotidiano La città Vediamo il titolo di apertura Provincia Altri 40 Rischiano il posto Errati i conteggi Sugli esuberi Non bastano I prepensionamenti Continuiamo La fotonotizia Da Solofrana A Cavaiola Vereni Nei campi 500 metri cubi Di acqua Al secondo In caso di piena Straordinaria Del Sarno E dei suoi affluenti Questi dati Di un'analisi Condotta dal genio civile E con le esondazioni Cresce a dismisura Il rischio di contaminazione Delle culture Inquinamento tra l'agro E la valle Dell'Irno Centro pagina L'assalto degli abusivi Desidenti e negozianti Contro l'invasione Andiamo di fondo La politica I 5 Stelle Lanciano la sfida Liberiamoci dal Duce Le audizioni Per la lista La scelta Dei candidati E decisiva Tangentopoli Corsi e ricorsi Nel caso Anas Andiamo a Scafati Corteo Ad alta tensione Minacciato Valiante Vuole pensare Ad un abbravato Comunque ad un episodio Legato al forte clima Atteso Che si respira in città L'onorevole Valiante Simone Valiante Vittima ieri mattina Di minacce verbali Da parte di ignoti Andiamo nei box In alto Da Roma In migliaia Al Campidoglio Marino Straccia le dimissioni Il Vaticano Il Papa Applaude Al sinodo Faticoso Ma darà frutto E poi Ancora Giovani Della città Il Falla Feltrinelli Signorant Gioco di parole Contro i pregiudizi E ora ci fermiamo Per una breve pausa pubblicitaria Restate con noi Per la seconda parte Della rassegna stampa Bentornati alla seconda parte Della nostra rassegna stampa Che apriamo con le pagine Di Le Cronache Il titolo di apertura De Luca Regalò i soldi Il PM Penna Presenta un appello Molto duro Omaggio a Di Lorenzo E peculato Fu una graziosa Elargizione di denaro Del tutto scollegata Da ragioni D'ufficio La difesa del governatore Ripropone il reato linguistico Il termine usato L'unica censura Torneremo sul tema Di primo piano Nelle pagine Successive Andiamo avanti La dottoressa Russo Denunciò a Rinaldi Le omissioni dei periti C'erano clamorosi elementi Per presentare appello Contro l'assoluzione Del colonnello Dei carabinieri Una lettera Esposta Presentata Dalla dottoressa Russo Che denunciava Possibili omissioni Nella relazione Dei periti Non è stato preso In considerazione Dalla procura E poi L'asilo degli orrori Dopo sei anni I genitori Vogliono la verità Abusi e violenza sessuale Alla materna Di coperchia Inchiesta ferma I nostri figli Rischiano di trovarsi Le persone Indagate In altre scuole Andiamo a centropagina Scafati PD in piazza Contro a Liberti Minacciano Simone Valiante Scafati Tensione esista Sfiorata Cacciata Forza nuova L'onorevole Simone Valiante È stato minacciato Al termine della manifestazione Del PD Il deputato Dopo aver fatto il suo intervento Sul caso a Liberti E sul difficile clima politico In cui si trova la città Era andato in un tabacchi Nei pressi del comune Quando qualcuno Dalla macchina Gli ha urlato Una sorta di avvertimento E a Salerno La città in tilt Flop del piano traffico E poi davano la colpa A Cascone Lastra Salerno E polemiche Lo sport salernitano Emergenza Difesa a Lanciano Torrente Domani Schiera Pestrin Questa è la prima pagina Di Le Cronache Andiamo avanti Andiamo sulle pagine Di primo piano La notizia di apertura Il caso del termovalorizzatore Che vede coinvolto L'ex sindaco di Salerno Vincenzo De Luca Oggi governatore Della regione Campania Ma stiamo parlando Comunque del caso Del periodo in cui De Luca Era sindaco Nella città Capofilia della provincia Vediamo PM Per Di Lorenzo Graziosa Elargizione Di denaro E peculato L'appello di penna Fa tremare De Luca Se condannato Sarebbe sospeso Con o senza Severino Prima udienza Sul termovalorizzatore Fissato Dalla corte d'appello L'11 dicembre Entro la fine Di quel mese Ci sarà La sentenza La difesa Del governatore Ripropone Il reato linguistico Il termine usato L'unica censura E poi Il processo Di Lorenzo Vuole Bonavitacola Suo testimone Presente alla lista Dei testimoni Alberto Di Lorenzo Che vuole In aula Anche l'attuale Vicepresidente Della giunta regionale Fulvio Bonavitacola Di taglio basso L'altro caso Il crescent Esposto a Lembo Anche la gara D'appalto Sui diritti Va controllata Ha determinato Una disparità Di trattamento Rispetto ai potenziali Concorrenti Italia Nostro E No Crescent Scrivono Alla procura L'ordinanza Dell'esame Potrebbe aprire Nuovi filoni Di inchiesta Moreno e Agosto Si verifichino Ipotesi di reato Relativi al rilascio Dei permessi A costruire Lasciamo questa pagina È stato donato Dalla misericordia Dalla misericordia di Siano L'intera iniziativa In disposta Ad una richiesta Di soccorso Pervenuta Nel corso Di questi ultimi giorni Nuova consegna Da parte Della Onlus Presieduta Dal dottor Vincenzo Mallamaci Andiamo E poi a Padula Sfogliando le pagine Dell'arte L'affollatissima Mostra collettiva A Padula Un nuovo appuntamento Con l'arte Infatti Avrà luogo Una mostra D'arte E' partita Lo scorso 22 ottobre Fino al 7 novembre Pagine d'arte È stato Realizzata Dall'Associazione Culturale Celeste A Sant'Arsenio Ieri Gli agricoltori Della nostra terra Una manifestazione Di grande successo L'intervista Delegato All'agricoltura Dell'amministrazione Comunale Angelo Mango E poi Il periodo Di cultura Promosso Dal circolo Sociale Carlo Alberto 1886 Con il patrocino E il supporto Della Banca Montepruno Si sta tenendo In queste settimane Una lunga serie Di incontri Per promuovere Libri La letteratura La lettura E soprattutto La cultura Vediamo Il titolo A ottobre Piovono libri Ed è L'atteso boom La manifestazione Si terrà Fino al 6 novembre Con il circolo Carlo Alberto E la BCC Montepruno Ad ottobre Piovono libri Manifestazione Che si è inaugurata Lo scorso Venerdì 9 ottobre Terminerà Con l'ultimo appuntamento Il prossimo 6 novembre Il circolo Carlo Alberto 1886 E la Banca Montepruno Aderiscono All'iniziativa Di promuovere La letteratura E presentano Un fitto calendario Di eventi letterari E lasciamo Anche questa Pagina Lasciamo le pagine Di Le Cronache Andiamo ora Invece A sfogliare Metropolis Il titolo Di apertura Scafati È una polveriera Alta attenzione Alla manifestazione Del PD Minacce All'onorevole Simone Valiante In esclusiva La lettera Di Aliberti Ai cittadini Fango Contro me Adesso Si vota E andiamo avanti Andiamo a Salerno Elezioni Nessuno vuole sfidare De Luca L'ombra lunga Del Governatore I papabili candidati Non si fanno avanti E sempre a Salerno Movida La task force Contro le notte brave Giovanissimi Beccati alla guida Ubriachi E sotto l'effetto Di stupefacenti Sempre Salerno Visita medica A Ruggini L'odissea Di un'anziana Avrebbe dovuto Effettuare un controllo Costretto a rivolgersi A strutture private E poi Max La nuova sfida Più attenti ai talenti D'Alessandro A rientro Da ex factor Maggiore impegno Per la musica Per il calcio Invece Sfuriata di Lotito Il comune sereno E tutto in regola Petillo I soldi arriveranno a breve Ottimi i rapporti Tra l'ente E il club In serie B Emergenza Salernitana Fabiani Ripensa Al mercato In serie D Invece Sarnese e Cavese Parishow A lungo Bianco-blu In levetta E per l'eccellenza Campana Nocera Fa festa Al novantesimo Scafatese Terzo stop Di fila Per il basket Di serie A2 Givova Scafati Supermaio Trapani Va K.O. Al mangano Andiamo avanti Parliamo proprio Dello sport Con la Salernitana L'abbiamo visto Dai titoli Della prima pagina Salernitana Emergenza Mercato Domani a Lanciano Solo con due Difensori centrali L'alternativa Lanzaro Edempedeure Pestrin Fabiani Pensa a Figliomeni Granata In ritiro a Roma Torrente Si ritrova Con gli uomini Contati E poi SOS Infortuni Infermeria Piena Maschiavi Rilancia Lo stopper Dopo la frattura Al Perone Torno presto Un incidente Di percorso Lasciamo le pagine Del quotidiano Metropolis Andiamo ora A chiudere Questa rassegna Stampa Con la prima pagina Di La Nuova del Sud Il titolo di apertura Cerchi lavoro nel petrolio Chiedi al consigliere Comunale Accade anche questo In un comune Petrolifero Lucano E a dirlo È la stessa Azienda Ancora Monito di Braia Gli aiuti europei Sono l'ultimo treno Non si può più Sbagliare Disimpegno Ridotto Del 50% Di taglio alto Comune di Potenza Tutto fermo Aspettando Il congresso PD E forse Le larghe intese E poi Una maledetta curva Centauro Lucano Muore In un incidente In provincia Di Perugia Si chiamava Pasquale Lofiego Per lo sport Di taglio basso Matera Ancora una beffa In Lega Pro E Biancazzurri Puniti Nel finale Di partita Cosenza In serie D Francavilla Una prova Schalbe In trasferta Condanna il team Di Lasic A un K.O. Senza Attenuanti Potenza Sansevero Rosso Bruppi Uniti Da Rossi Due volte Nella prima frazione C'è molto Da lavorare Ancora E poi a Picerno Melandrini E con la prima pagina Chiudiamo la nostra rassegna stampa Vi ricordo alle 13.45 L'appuntamento con il nostro Tg Grazie per averci seguito Auguro a tutti una buona giornata Grazie per averci seguito